Questo video è stato voluto fortemente da tutti i praticanti dell'ITKA, soprattutto dagli studenti più lontani, che in questo modo possono avere un supporto per la loro pratica. Vediamo adesso di spiegare gli esercizi che compongono la sequenza madre. Ricominciamo. Assumiamo una posizione naturale, mantenendo il corretto allineamento strutturale, quindi rilasciamo. Le anche sono rilassate. Grazie. 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 Il Qigong è una ginnastica psicofisica. Letteralmente Qigong significa lavoro sull'energia. La nostra scuola adotta un programma molto vasto di Qigong. Per quanto riguarda i praticanti di Tai Chi Chuan, viene studiata la cosiddetta sequenza madre. La sequenza madre racconta una storia, racconta la storia del movimento e ne spiega i singoli elementi. Questi elementi sono commessione, espansione e contrazione, oscillazione, movimenti a spirale, quindi il tipico movimento a spirale che viene praticato dallo stile Chen di Tai Chi Chuan, e l'accelerazione di tali spirali che i cosiddetti faggin, cioè l'emissione di forza. E l'ultimo elemento è il movimento del corpo su un punto. Il Qigong è un movimento del corpo su un punto. Il Qigong è un movimento del corpo su un punto.